Come una madre incinta attende ogni giorno l'incontro con lo sguardo del suo bambino, così anche noi siamo chiamati ad aspettare fiduciosi l'abbraccio del Signore. Papà Francesco ha usato questa metafora per spiegare all'udienza generale in Aula Nervi la speranza cristiana, la speranza della salvezza, l'elmo da tenere saldo sul capo, scriveva San Paolo, nelle prove e nei momenti difficili della nostra vita. L'esperienza della morte, ha ricordato il Papa, fa emergere tutti i dubbi, le fragilità e ci porta a chiedere se davvero potremo un giorno riabbracciare i nostri cari e se veramente c'è vita dopo la morte. La speranza cristiana, soggiunto, non è qualcosa di bello che vogliamo realizzare, è la certezza che qualcosa è stato già compiuto e che quindi si realizzerà anche per noi. E così, ha fatto ripetere per tre volte Francesco, per sempre saremo con il Signore. Anche la nostra resurrezione e quella dei cari defunti, quindi non è una cosa che potrà venire oppure no, ma è una realtà certa in quanto radicata nell'evento della Resurrezione di Cristo. Sperare, quindi, significa imparare a vivere nella tessa. Sperare significa e implica un cuore umile, un cuore povero, solo un povero sa attendere. Chi è già pieno di sé e dei suoi averi non sa riporre la propria fiducia in nessun altro se non in sé stesso. Al termine della Catechesi, salutando il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, il Papa ha incoraggiato le Chiese locali a rispondere con determinazione al grido della terra e al grido dei poveri. Grazie. Grazie.